Oggi 8 luglio a Lampedusa, in occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario del primo viaggio apostolico di Papa Francesco, è stato reso pubblico il messaggio che il Santo Padre ha consegnato a Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. In occasione della celebrazione, a ricordo del decimo anniversario della visita a Lampedusa, desidero inviare a lei e a fedeli dell'Arcidiocesi, all'autorità e ai presenti, il mio cordiale saluto. Sono vicino a voi con l'affetto, la preghiera e l'incoraggiamento. Carissimi, in questi giorni stiamo assistendo a ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo, siamo scossi dalle stragi silenziose, davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti. La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di un'esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante, che non può lasciarci indifferenti e la vergogna di una società che non sa più piangere e combatire l'altro. Sono trascorsi dieci anni dal viaggio che ho voluto compiere nella comunità lampedusana per manifestare il mio sostegno e la paterna vicinanza a chi dopo penose peripezie in balia del mare è approdato sulle vostre coste. Il consumarsi di sciagure così disumane deve assolutamente scuotere le coscienze. Dio ancora ci chiede, Adamo, dove sei? Dov'è il tuo fratello? Vogliamo perseverare nell'errore, pretendere di metterci al posto del creatore, dominare per tutelare i propri interessi, rompere l'armonia costruita tra lui e noi? Bisogna cambiare atteggiamento. Il fratello che bussa alla porta è degno di amore, di accoglienza e di ogni premura. È un fratello che, come me, è stato posto nella terra per godere di ciò che vi esiste e condividerlo in comunione. Vi esorto perciò a non restare imprigionati nella paura o nelle logiche di parte, ma siate cristani, capaci di fecondare con la ricchezza spirituale del Vangelo, codesta isola, posta nel cuore del mare Nostrum, affinché ritorni a splendere nella sua originaria bellezza. Mentre ringrazio ciascuno di voi, continua Papa Francesco, volto radioso e misericordioso del Padre per l'impegno di assistenza a favore dei migranti, affido al Signore della vita i morti nelle traversate e volentieri imparto la mia benedizione chiedendo per favore di pregare per me.